No, eccolo là. I studenti che facevano rientro a casa in tutta una settantina di passeggeri che loro malgrado hanno assistito al diverbio violento con il controllore che gli chiedeva di esibire il biglietto. L'extracomunitario non era in possesso di alcun biglietto e le insistenze del controllore si sono fatte sentire. A quel punto il trentenne è partito con una serie di minacce e di insulti talmente pesanti e scurrili da costringere anche l'autista ad intervenire per cercare di calmare la situazione, vista anche la presenza di minori e di ragazzi giovani. Per nulla intimorito però della situazione l'uomo ha continuato nella sua escandescenza creando panico e agitazione tra tutti i presenti. Neanche le minacce di farlo scendere e chiamare la polizia lo hanno calmato. Anzi, in evidente stato di alterazione ha pensato bene di rompere la bottiglia di birra con la quale era salito sul bus sul poggiamano di un sedile ed urlare al controllore «Adesso ti faccio vedere il colore del tuo sangue». Naturalmente a queste parole è scattato il panico più totale all'interno del bus e si è arrivati con la corsa al centro di Lucrezia e una volta fermato l'autobus l'autista ha aperto le porte e fatto defluire tutti i passeggeri in evidente stato di agitazione e di spavento e sono stati poi caricati da una corsa bis che seguiva il bus. Anche l'extracomunitario a quel punto è sceso e ha fatto perdere le sue tracce sul posto in seguito alla chiamata al 113 dell'autista del controllore è arrivata anche una pattuglia in borghese del commissariato di Fano che ora è alla ricerca dell'uomo.